Porta in treppo la regina, un bambino prodigioso. Allegria, 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 allegria. Eccoli tutti in fila, con i classici copricapo rossi, a intonare le tipiche canzoni natalizie. È la banda dei Babbo Natale, formata dagli studenti piacentini, dei licei Cassinari, Respighi e Colombini, e della Scuola Media Calvino di Via Stradella. Oltre un centinaio di giovani cantanti, che nel pomeriggio hanno lietato la cittadinanza con brani di Natale. Da Tura Lura alla Ninna Nanna di Bramsa, da Go Telling to the Mountain, fino all'immancabile Jingle Bands. Tutti bravissimi per la gioia dei genitori, del maestro Franco Marzaroli, che li ha accompagnati con la sua banda Nuova Armonia di Gossolengo, delle docenti Lucia Consonni, Patrizia Datilini, Luisa Stavoli e Francesca Perotti, e di chi ha avuto il piacere di ascoltarli. Oggi un'altra bellissima iniziativa, è un concerto di Natale. Abbiamo coinvolto le scuole piacentine, le scuole medie, anche le scuole superiori. Abbiamo avuto un bellissimo riscontro. Questi ragazzi si esibiscono qui in Piazza Cavalli, in prossimità del comune dell'albero di Natale, della nostra stupenda piazza. Credo che sia un momento di gioia, un bel momento da condividere insieme a tutti i piacentini. Come sono stati i ragazzi? Sono stati bravi nel prepararlo? Direi sì, molto impegnati, molto contenti di fare questa esperienza. A questa manifestazione abbiamo aderito insieme alla collega Luisa Stavoli, Patrizia Datilini e Francesca Perotti e abbiamo cercato di fare questo lavoro in team, proprio per dare anche maggior risalto alla manifestazione.